Salve, riprendiamo la nostra serie di commenti sui mercati finanziari. Siamo ad ottobre e abbiamo appena vissuto un grandissimo recupero dei mercati di rischio dopo gli interventi senza precedenti da parte dei governi e delle banche centrali. La crisi che ci aveva attanagliato per circa 18 mesi, diciamo da metà del 2007, fino ai minimi dei mercati azionari nel marzo di quest'anno, sembra ormai un ricordo del passato. I principali operatori economici sulla scia dei tagli dei tassi molto aggressivi da parte delle banche centrali, dell'enorme emissione di liquidità nel sistema, degli enormi stimoli di tipo fiscale, soprattutto nei paesi anglosassoni, in Europa questo è meno possibile, probabilmente non è stato meno necessario, abbiamo visto un enorme recupero fino al 50% grossomodo dei mercati azionari dai minimi di marzo. Anche i mercati obbligazionari che avevano visto una crisi di liquidità e quindi gli spread dei titoli corporate rispetto ai titoli governativi, andare sui massimi storici, sui massimi di sempre, questo sempre la primavera scorsa, abbiamo visto che sono tornati in molti casi su livelli, non dico pre-crisi ma pre-Liman, ricorderemo il fallimento, il punto cruciale della crisi fu il fallimento di Lehman esattamente un anno fa. Ecco, che cosa possiamo fare noi come gestori e come investitori in una situazione di questo tipo? Sicuramente c'è da rilevare questa dicotomia tra ciò che ci dicono i mercati finanziari che sembrerebbero, se presi così alla lettera, sembrerebbero scontare una forte ripresa dell'economia, mentre d'altra parte un'analisi dei dati economici, ma anche l'evidenza aneddotica che riscontriamo così giorno per giorno, ci dicono che l'economia è ancora in crisi, ci dicono che l'industria ancora soffre, ci dicono che malgrado l'enorme liquidità nel sistema finanziario il credito all'impresa ancora non arriva o arriva col contagocce. Quindi chi ha ragione? Ecco, mai come ora c'è stata questa enorme discrepanza fra l'andamento dei mercati finanziari e l'andamento dell'economia reale. L'ultimo dato, per esempio, sulla disoccupazione in America ha visto la disoccupazione al 9,8, in Europa siamo su livelli molto simili, intorno al 9,6. È chiaro che il tasso di disoccupazione non è un indicatore che guarda avanti, più che altro frutto del recente passato, ma sicuramente anche altri indicatori ci dicono che l'economia reale non risponde pienamente. Quindi delle due l'una, o ha ragione l'economia reale o ha ragione la finanza. Noi temiamo, ahimè, che abbia ragione l'economia reale o meglio, che la finanza si sia spinta un po' troppo avanti nello scontare scenari di ripresa, ma soprattutto crediamo che la finanza, i mercati finanziari in generale abbiano assecondato le banche centrali e si stiano spingendo molto avanti con la speculazione. Se vogliamo sono vecchi comportamenti, avremmo dovuto imparare un po' di più dalla crisi recente, ma in me il lupo perde il pelo ma non il vizio. Grazie a tutti.